Siamo ora allo spazio riservata l'attualità sindacale. Nelle ultime settimane Parma è stata attraversata da una serie di inquietanti notizie, un piccolo terremoto di inchieste dalle tangenti per l'appalto del verde pubblico alle indagini della Guardia di Finanza sulla partecipata del comune STT. Inchieste che stanno portando inesorabilmente alla luce fenomeni di opacità amministrativa e giochi di potere di alcuni ristretti gruppi d'affari in evidente conflitto con gli interessi della collettività. Tra le sorprese amare venute a galla vi è la bufera che ha coinvolto l'azienda del trasporto pubblico locale, la TEP SPA, dopo che si è scoperto che il presidente Tiziano Mauro aveva investito 8 milioni e mezzo circa di euro in Banca MP, commissariata da Banca Italia. Oggi Mauro si è dimesso non senza scossoni sul piano dei rapporti politici e istituzionali locali, ma le forti preoccupazioni del sindacato per il futuro di TEP e dei suoi lavoratori rimangono stringenti. Ne parliamo con Alessandro Chiesa, segretario generale della Filt CGL di Parma. Ricostruiamo brevemente la vicenda. Come avete scoperto questo opinabile investimento e come avete ragito e di chi sono le responsabilità? Le voci già in azienda si rincorrevano da parecchio tempo ed è per questo che noi avevamo alzato le orecchie su questa vicenda. Diciamo che la conferma, il nero su bianco di questa vicenda, l'abbiamo trovato in fondo alla pubblicazione del bilancio TEP 2009, quando la società di revisione ha certificato che di quegli 8 milioni di euro il ritorno veniva garantito sulla parola degli amministratori. E quindi questo è stato il campanello d'allarme che ha fatto scrivere a noi sindacati, alla TEP, al Collegio dei Sindaci Revisori, e ai due azionisti, comune e provincia, per chiedere le necessarie rassicurazioni, anche perché siamo alla vigilia, di tagli al trasporto pubblico locale e alla gara di appalto per l'affidamento del servizio. Beh, è indubbio che chi ha disposto tutto questo senza avere davanti una preventiva delibera del CDA è il responsabile. Poi ci sono anche elementi diversi di responsabilità, sicuramente ce n'è una giuridica, penale, legale, e questa è competenza della Procura della Repubblica che ci sta mettendo le mani, e poi c'è una responsabilità politica perché è chiaro che bisogna amministrare i soldi pubblici con decoro e con serietà e correttezza. Ora questi soldi torneranno? E quali saranno le conseguenze per la tenuta occupazionale dell'azienda, visti anche i tagli cospicui al trasporto pubblico stabiliti dal governo? E' anche vero che Banca d'Italia è intervenuta dopo che i soldi sono stati affidati e di conseguenza noi non abbiamo la garanzia che rientrino, ma sicuramente che Banca d'Italia possa fare di tutto perché tutti quanti i contratti della banca possano essere onorati correttamente. Noi siamo molto preoccupati, per un motivo molto semplice, dall'anno prossimo ci saranno per il bacino di Parma probabilmente 2 milioni e mezzo di chilometri in meno da percorrere per la società di trasporto pubblico e pertanto 5 milioni di euro in meno. Equivale circa a un taglio del 20% dei chilometri e delle risorse e quindi ci si chiede se c'è bisogno di un taglio del 20% della mano d'opera. La CGL dice di no, non siamo responsabili di questa cosa, la CGL è scioperato contro questi tagli il 25 giugno e in terzo luogo è un settore che non ha alcun ammortizzatore sociale, nemmeno la mobilità, nemmeno la cassa integrazione. Che effetti avrà ora tutto questo sulla imminente gara per l'affidamento del servizio pubblico locale visto che l'appalto a TEP scadrà a febbraio, se non sbaglio? Rischiamo proprio di essere in mezzo alla tempesta perfetta perché c'è anche questo elemento. A febbraio scade l'affidamento del servizio a TEP, verrà indetta una gara in cui viene messo a gara il 40% delle azioni di TEP e il trasporto pubblico locale su Parma. E la domanda è, questa azienda con i conti così fatti e con questa vicenda verrà comperata per 4 noccioline oppure no? Noi vogliamo opporci a che questa azienda, che è un patrimonio della collettività, possa essere venduta per 4 denari. Torna ora allo spazio dedicato all'informazione in pillole in cui oggi ci occupiamo di TFR e dipendenti pubblici. Ci illustra il tema Ilaria Bonafini, operatrice del patronato Inca della CGL di Parma del settore dipendenti pubblici.